Musica Bella a tutti raga, sono Sergio Adriano Oggi vi porto Call of Duty Advanced Warfare Advanced Warfare per i più ingerati Allora, ho provato mezz'ora fa a fare un video per Come dire Con una sopravvivenza ma non mi è riuscita tanto bene Quindi Che faremo Aspettate Giocheremo la campagna Ok, è la prima volta che la provo Questa missione Quindi Se muoio è perché non l'ho ancora affrontata Mi è stato dato Advanced Warfare vecchio appunto Mi è stato dato E molta gente mi ha chiesto perché giochi a giochi così vecchi La risposta è perché ho preso la vera da poco E non ho voglia di comprare giochi che costano tanto Che da due mesi non costano più nulla Allora Giochiamo questa missione Fissione Cittadini del mondo Siete nascosti dietro la protezione della tecnologia E spero che con me Che l'episodio precedente di FIFA non si blocchi Ho deciso di non portare FIFA oggi Perché appunto Voglio portare qualcosa di diverso E così ho fatto Prossimo episodio Porterò FIFA 17 Ci sarà il terzo capitolo E poi a grande sorpresa Porterò PES Ci sarà il terzo capitolo Ci porterò PES 2017 Demo E farò una partita Ok Allora Adesso tiene il casino Che poi tutti i colori utici sono apparentemente uguali Anche se quello che mi ha piaciuto di più che ho giocato è World at War Vecchio Come mio nonno Però Seconda guerra mondiale cose diverse Trotto bello Tanto quando sei in viaggio Succede sempre che ti colpiscono Da Ok Ok finisci male Ecco Teneteli Come all'inizio Uguale Tutte le volte che fai così Finisci dilottato da qualche parte Ok Allora Un casino con niente Sì però Però mirami loro Ricarica Oh Colpo la testa Perfetto Ah Eccoli dove sono finiti gli altri Eccoli lì dove erano Poi un altro Poi un altro Poi Poi un altro Perfetto Vai Non è il cavo Sì Le PM2 però Ci vogliamo Eeeh Che è Su Avanziamo Che male difficile Perfetto Già una granata E tra l'altro L'ho Una certa In mei Vai Fuori uno Ma non mi sei Altenza il propulso adesso Eeeh Che è Eeeh Cosa che dice Dove vai Droni Qualcuno ha usato la parola droni No Fuori anche te Tanto qua Mi ammazzano Mi vado a scantare Eeeh Respiro affannoso Ok Ritorniamo all'azione Questo è un amico sì Eeeh Fuori un altro Niente è più inutile La pubblicità su youtube Plane di alleati E call of duty Gli alleati E call of duty Non servono a nulla A nulla C'è Certe volte ti dicono Sono il casino Perché si mettono nel mezzo E se spari È pure la colpa Se li ammazzi Ah Devo usare cosa Devo usare cosa Ok Andiamo Andiamo avanti Così Su No Tu sei con me La torrenta funziona ancora Qualcuno Non si subito No Non devi mettere qua dentro Oh Entriamo nella torrenta Su Facciamo casino No Siamo casino Siamo casino Andiamo avanti Vai Non c'è più la nostra macchina Ti vedo Ti vedo Ma non ti colgo Eh perché sei l'altro muro Ecco perché non ti colgo Ma ti ho colto uguale Vai grazie a me l'ho ucciso Ah mi posso muovere Ma ecco cosa Mancava Ma che vuoi fare Ma che vuoi fare Mi piace troppo No da qui Ma che vuoi fare Mi siamo qua con la toletta andata Ma che vuoi fare Ma che vuoi fare Ma che vuoi fare E' andato davvero No non è andato E non è comunque andato ancora E' andato Oh perfetto Oh perfetto Ok avanti Apriamo questa porta Apriamo questa porta Andiamo su Ehm Perchè Perchè Ehm Eh appunto Ehm Ah la porta Ehm Tutti quelli che vuoi fare Ehm Cos'è Cos'è sta roba Ok 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 Lancia granate Lancia granate Lancia granate Perfetto Lancia missi Non c'è più Mi sale più Eccolo Eccolo Noo da qua no Noo da qua no Noo da qua no Poi un'altra Poi un altro Poi un altro Poi un altro ancora Ancora un altro meno Madonna Cioè Gliele danno Cioè mi chiedo Se veramente Nel futuro Ci saranno queste armi qui Fuori due di qua Un pulso sonico Per far schiantare Il drone E qui ci siamo Vai uno o meno Anzi non l'ho preso Nemmeno ora Ora si No merda C'è qui E c'è pieno Cosa vuoi fare là lì Tu cosa vuoi fare là Che ti ammazzano con nulla E tamo da qui Oh Don't be Don't be so rude E io me ne vo Io me ne vo Io me ne vo Scappo Non mi metto un culo a tutti Non mi metto un culo a tutti Dove Le quattro Le quattro E li vuol Il doppiatore Dai su Andiamo Su Ma sei con me Ma c'è nessuno Ma che vuoi fare Dai su Correte in tanti Correte in tanti Azione Ah io eh Che voglio anche un giorno Funzionasse da cazzotti Gli ascensori Si gioca a tennis Eh Pensa io Ma cos'è sta roba Cioè ma Eh si Come la minonna Vai Fuori un altro E Fuori Ah Non sei morto Ora si però Tranqui Cioè Già mi prendono Che sono giù Fate voi Cioè Quattro colpi Ci vogliono Tramazzare Uno Avete capito Un frullatore Un frullatore Fatela Cadono come mosche Ora Forse Una volta buona O forse no Quelli sono miei Si sono miei Una volta buona Per davvero Cioè poca batteria Al fucile Su Corri Forse Forse anche no Si tutto ok Non ti preoccupare Appunto la gente ha previsto Che noi saremmo arrivati Questo terminal è attivo Ma che manchino Non è mancategnata Ma che è Prendiamo il terminal Su Voi o no Ma che è madonna l'aria però se non mi fai staccare levati non si è desiderato per 10 metri per 70 metri forse succederà qualcosa i just wanna see the light vedo la luce vedo la luce vedo la luce vedo la fine della missione ok se sono scesi ora posso scendere anch'io lo so che me ne pentirò lo so che me ne pentirò malamente di questa scelta boh c'è non si è morto ora si e vorrei vedere e niente non muore ops c'è qualcuno che mi stampa l'ho trovato da dietro no k47 non lo voglio andiamo avanti su voglio il cosciente pallino laser guardate qua la precisione da da distanza impossibile mi piglia la granata no mi piglia ahia qui qui sono il bersaglio prefetto di tutti appunto cioè mi stanno prendendo da tutte le parti eh devo dire io porca puttana non fate ti preoccupare i droni sono sono male minore i droni i droni sono male minore perché li punti li spari e li fai fuori a massimo si sposano ma li ripunti l'altre cose no ops arrivano pure da dietro ah no ma secondo me fuori 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 meno uno oh ma allora poi anche tu fuori ma ci si farà che a farne uno eccolo oh dimmi che la missione è finita dimmi che la missione è finita ops si perde un altro braccio hai capito quindi anche se scappavo morivo quale cioè bellissimo è una torre che spunta dalla terra ora magari anche a terra mi abbosto sai sono la tua pista d'atterraggio alleluia 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 un po' in culo tanto non ho soldi sono povero e si va la mia missione successiva ragazzi vi ringrazio lasciate like iscrivetevi e aiutatemi con tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti da Sergio Adrian ciao a tutti ciao a tutti Grazie.